E' tanta guagna per tutti ragazzi, siete sintonizzati con Mr.Rock e bentornati in queste super gare ragazzi. Questa è una gara, una delle gare più fatte tra l'altro con più like, c'è tipo l'84% di valutazione. Se mi vedete che giro di là è perché sto leggendo questa cosa qui, perché non lo so, ho memoria. L'ho proposta io, vediamo, la madonna già il fuoco così, vediamo com'è. E' stata proposta senza collisioni eh, quindi non lo so, con due giri, vediamo ragazzi, vediamola. Per adesso solo su strada, la mia T20 con queste gomme magari solo su strada non avrà tanta velocità, infatti mi hanno già praticamente superato, ma farà comunque la sua porca figura in caso ci siano ragazzi delle orca. Quest'anno non andava bene. Ci siano delle warride. Tra l'altro non so perché l'ho fatta di notte, potevo farla di giorno che si vedeva un po' di più, però va bene così. Ci va bene lo stesso, giriamo di qua, per adesso è tutta strada raga, tutta strada, niente di che, curve abbastanza facili. Ecco, le ultime parole famose per arrivare quinto. Meno male che anche tu ti sei ancorato al palo e l'altro no. Ok, iniziano i warride. Iniziamo così, iniziamo cos'è, iniziamo, facciamoci controllare da questo tubo, non vedo un tubo. Oh, 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 cos'è? No raga. Beh, perfetto, perfetto. Esploso, il secondo esploso. Godo. Ok, andiamo giù qua, impicchiata. Io non sto facendo niente raga, sto schiacciando soltanto R2. Però ho paura di andare, ecco, di andare contro a qualcosa. Oh, paura, paura, paura. Bella raga, bella, 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 bella. Non sto facendo assolutamente niente raga, non sto facendo solo R2. R2, vai, vai dritto così. Se ho paura, ecco. No, dai, dai, che è lì. No, 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 no. Dai, T20, non mi mollare, dai, T20, non mi mollare. Grande T20, grande T20. Siamo secondi. E dove cacchio è il primo? Ma dove cacchio è il primo? Come fa a essere il primo, tra l'altro? Cioè, abbiamo fatto tutto alla grande, va bene così, comunque. Andiamo giù, di prepotenza, ragazzi. Siamo sotto questo ponte. Ok, sotto questo sole. Non mi ricordo le parole. Ok, di qua. Di notte non si vede un tubo. Siamo al secondo giro. Ai ai, secondo giro. Forse era meglio farne solo uno. Perché potevamo ancora fare bella figura. Tra l'altro, ho fatto delle rampe della Madonna. E poi qui mi vado a incastrare come un pollo. Qua, proprio qua, non bisogna perdere terreno, ragazzi. Perché è la parte dove la gente può recuperarti. Quindi, se hai sbagliato prima e perdi terreno qua, sei un bel pollo. Come me. Esattamente come me che vado a incastrarmi. Però, va bene così. Allora, continuiamo in questa parte di strada. Diciamo che ci sono quei warride veramente fighi. Però, troppo a parte... A me piacciono un po' più tecniche le gare, raga. Mi sto appassionando a queste gare tecniche. Ci sono dei vari trucchetti che impari. Ecco, cosa vi dicevo? Ci siamo fatti recuperare come dei polli. Perché... Siamo dei polli. Ok, dai, T20. Non mi mollare. Fatti valere. Non mi mollare. Fatti valere. Meno male che non ci sono le collisioni, raga. Perché a quest'ora, altrimenti, eravamo già... Qua dobbiamo controllare un po' l'atterraggio. E facciamo fare tutta la macchina adesso, raga. Siamo in mano alla macchina. Magari facciamo dei piccoli aggiustamenti. Quindi, se vediamo proprio che prende qualche andasso, non tanto bello, ma dobbiamo fare... Veramente, tipo qua, dobbiamo girarla. Assolutamente. Vai, T20. Non deludermi. Dai, dai, non deludermi. Non deludermi. Che sei più veloce di lei. Urca. Non deludermi. Mi sa, raga. Mi sa, raga, che non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Questa è la parte, se non stringendo un po' di più il cordolo, per cercare di avere meno strada. Ma questa è una parte che è difficile da recuperare, nonostante le abilità, proprio perché è tutta dritta. Dai, 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 dai. Terzi, ragazzi. Terzi. Per poco. Cioè, non si è visto. Il primo non si è visto. Invisibile. Impossibile da recuperare. Comunque, bella gara. A me è piaciuta. Tranne la prima parte, perché non era granché. Seconda gara di quest'oggi, ragazzi. Tra l'altro, di giorno. Pensavo di averla fatta di notte. Meno male che questa volta non è così. Ho fatto un solo giro e anche questa senza collisioni. Scusatemi, ma è stata proposta così. E quindi, non si può cambiare. Lo facciamo così. Questa deve essere una gara molto bella, ragazzi. Veramente. Non apro il cellulare, però. Deve essere una gara molto, molto, molto bella. È anche questa una delle gare più belle che viene considerata. Tra l'altro, cercare di avviare le registrazioni mentre sono in gara è una cosa fantastica. Comunque, qua bisogna stare molto, molto attenti dove bisogna andare. Non lo so. Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo lì. Ci siamo. Ci siamo. C'è scritto che bisogna fare il downhill, che non so quale sia, in prima persona. È consigliato farlo in prima persona. Quindi vedremo qual è sto downhill. Raddrizzati. T20. Non andare su. È andata su. Porco Giuda, ragazzi. È andata su. Non sono l'unico, tra l'altro. Meno male. Qua, se qualcuno... Ecco. Raddrizza bene il colpo. Ci superano tutti. Bene. Forse non è stata una buona cosa fare... No. Perché io giro così come un pollo? Non è stata una buona cosa, ragazzi, fare un giro solo. Perché forse è qua che bisogna andare in prima persona. Mi sa. Eh, mi sa proprio di sì. Quindi andiamo in prima persona. E poi torniamo così. Ok. Giriamo. Facciamoci guidare dalla macchina. Ti prego. Ti prego, T20. Non fare cagate. Ok. Ok. Ci siamo. Raga, siamo settimi. Non va bene. Dobbiamo recuperare un po' di posizioni. Non va affatto bene. Ti prego, T20. Anche qui. Però non mi stava entusiasmando. Non ha nulla di particolare. È stramba perché gira intorno a questi palazzi. Però niente di impegnativo e di particolare. Cosa fai? Cosa fai? Ti prego, arriva. Ti prego, arriva. Ti prego, grande. Grande, T20. Grande, T20. Con queste ruote, raga, la T20 è infallibile. Sì, però se riesco a prendere il checkpoint. No, il checkpoint era sotto, raga. Porco, Judas era sotto, raga, il checkpoint. Madonna, sono arrivato lì per niente. Ho perso posizioni per niente, raga. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Un po' troll sta gara. Non si capisce molto bene quello che bisogna fare. Tra l'altro qua conveniva. Ah no, è giusto. Non fare cavolate. Quindi praticamente ho fatto una cosa che non andava fatta. Bene, bene, bene. Ci sta un po' fregando questa gara, raga. Quello si è addormentato lì. Qua bisogna andare giù. Potevi dirmelo prima. Dannazione! Ok, allora, questa volta lo sappiamo che dobbiamo andare giù. Cerchiamo di non fare pirlate. Dove stiamo andando? Dove? Dove? È là, è là il checkpoint. Vi prego, non ti ribaltare. Ok, siamo quarti. Abbiamo recuperato qualche posizione. Erano consigliati due giri, però secondo me due giri sono anche troppi per una gara di 6 km, ragazzi. Ancora non ho capito se il downhealer di cui si parlava era quello lì. Dov'è? Dove sei il checkpoint? Sa che sei dritto. Eccolo là, checkpoint! Ragazzi, abbiamo raggiunto il checkpoint! Madonna che cattiveria con questo checkpoint! Andiamo, andiamo, andiamo di cattiveria in questa gara! Andiamo giù di qua! Molto interessante, ragazzi. Vi ricordo che potete votare la vostra gara preferita nei commenti. O proporre la vostra gara. Dove cacchio bisogna andare qua? Ah, ok. Perfetto. Bello, interessante. Particolare, interessante. Diciamo che sempre a me piacciono gare un po' più tecniche. Anche se devo dire che questa è carina. Dove sto andando? Alle nuvole. Siamo terzi, siamo quarti. Ti prego, T20. Ti prego, T20! Brava, brava, brava. Un bacio. Un bacio, T20. Perfetto. Comunque, stavo dicendo. Potete proporre la vostra gara preferita attraverso il link che trovate in descrizione. C'è un piccolo modulo dove potete proporre. E arriviamo terzi. Dove potete proporre la vostra gara, ragazzi. Arriviamo terzi. Mi raccomando di mettere like per sostenere la serie. Qui da Mr. Rock, ragazzi, è tutto. Visitate il nostro sito www.guagna.it. Mi devo sempre ricordare che cacchio devo dire. Aggiungetemi su Instagram se non l'avete ancora fatto, ragazzi. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao! 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 Grazie.